E voi dite RUN! Pronti? Pronti per la prima edizione di AvisCore? Olè! Muotersi che è un video! Ok ragazzi, attenzione stiamo per partire Prima di tutto vorrei qui il presidente è Luisa Micotoi, se possibile Con il piccolo Jacopo, per una breve, il presidente è lì che sta dando le indicazioni Allora Luisa, finalmente ci siamo! Sì, finalmente ci siamo, siamo orgogliossissimi Ricordiamo a tutti che questa manifestazione è stata realizzata per promuovere la cultura del giorno Perché donare sangue è per vita, per noi questo è quello che conta oggi Ok, ringraziamo subito i partecipanti e auguriamo una bellissima, divertente e coloratissima colorazione Bellissimo! Ragazzi, siete pronti per la prima? Facciamo qualche foto, facciamo qualche foto? Vai! Qualche foto di gruppo così magari... Ecco qua, io lo so! Simpaticissimi! Vai, una foto di gruppo qui Vai, un bel gruppetto Un bel gruppetto qua Fermi così Ok, foto, va bene, vai con il gruppetto di famiglia Vedi? Da questo lato, da questo lato si vede Bel gruppetto Foto di gruppo, ecco qua Foto ragazzi, dai, facciamo qualche foto prima di partire Fermi Ok, ragazzi, qualche altro foto? Qualche altro foto qui? Questo gruppo, questo gruppo con il lato Ragazzi, nella foto di gruppo Quest'altro gruppetto Abbiamo messo altro gruppetto Ecco qua Sì, ci siete ragazzi? Aspetta che non vi ho perso Ci siamo, ok Attenzione Manca qualcun altro Qui ragazzi Qui, qui Forza, forza, forza State lì, state lì Mancano due Ci sono tutti? Ci sono tutti? Sì, vai! Ok, pronti? Scatto, ok Quasi pronti per partire Giuseppe Ci siamo? Attenzione, tre Pronti? Un momento, un momento Con tanto di foto Il video Pronti? Pronti per partire? Pronti? Tre Due Uno Via! È partita, è partita È partita Immancabili Gli amici della Color Run Tutti colorati Vai Ben tutti